Con l'elezione a presidente di Cinzia Pecchio si è insediata a Palazzo Lascaris venerdì 5 dicembre la consulta femminile regionale del Piemonte. Istituita nel 1976, la consulta contribuisce all'elaborazione di proposte con particolare riferimento alle tematiche di genere, quali la violenza sulle donne, ma anche famiglia, cultura, lavoro. Questa mia candidatura non è stata spontanea ma caldeggiata da più parti, quindi nello spirito di servizio io mi metto a disposizione delle associazioni, delle donne e della regione affinché la consulta diventi veramente quell'organismo di unione tra istituzione e mondo associativo, soprattutto del volontariato.